Benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è martedì 8 agosto e siamo in diretta alle 7.30. Allora cominciamo dal santo del giorno, poi vediamo le previsioni del tempo. Oggi è San Domenico di Guzman, stato sacerdote. Il sole è sorto alle 6.04 e vedete piano piano comincia a tramontare sempre prima, siamo intorno alle 20.23. A proposito, ieri avete visto l'eclissi, si vedeva benissimo anche dalla nostra regione. Il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, eclissi di luna. Sarà poco nuvoloso con attività cumuliforme pomeridiana. Avremo temperature in lieve aumento, i venti a regime di brezza. Il mare sarà poco mosso con moto ondoso in lieve aumento verso sera lungo la costa pesarese. Domani il tempo comincia a cambiare, vedete? Comincia a cambiare soprattutto nell'entroterra, sia l'entroterra pesarese che quello a scolano, in fondo, nella nostra regione, splendida regione Marche. Allora, avremo un cielo sereno domani, o poco nuvoloso. Avremo locali rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto sui settori interni. Le temperature sono in ulteriore aumento. I venti continueranno a soffiare di brezza tesa da sud, ecco perché continueranno ad aumentare lievemente le temperature. Giovedì ancora peggio, sempre limitatamente alla parte interna della nostra regione. Le temperature sono stazionarie, i venti a regime di brezza. Però avremo possibili locali rovescio temporali nel pomeriggio, sempre nelle zone dell'entroterra. La costa si salva dal punto di vista delle piogge. Qualcuno, soprattutto chi ha pagato per stare in vacanza nella nostra regione, dirà meno male. Qualcuno che invece con la terra ci lavora e probabilmente c'è anche bisogno di acqua, quindi dirà peccato perché c'è bisogno di acqua anche. Il fine settimana avrà un transito di una struttura depressionaria che favorirà un aumento di questa instabilità e un calo delle temperature. Oggi non abbiamo la versione PDF online del resto del carino, alle 7 non era disponibile, però il giornale lo trovate comunque in edicola, in edizione cartacea, quindi ci limitiamo a dare un'occhiata ai titoli del Corriere Adriate con l'edizione di Pesaro, che chiaramente in primo piano mette il sacrificio di un uomo di 57 anni, un bagnino, Bigio Ricci, 57 anni di Fano, che per salvare due ragazzi e il loro papà si è buttato in mare, si è tuffato, poi stroncato dallo sforzo e morto. Questa è l'apertura. Poi a centro pagina invece la banda che, pensate, per fare un colpo ad una stazione di servizio, sempre la Kuwait, una Kuwait della provincia, ha bloccato la strada con dei trattori, una donna, una conducente, c'è finita contro, è finita anche all'ospedale, i ladri avevano messo questi trattori per poter rubare in tranquillità alla stazione di servizio appunto da Kuwait e questa è la notizia. Poi loro hanno indisturbati, fatto il loro colpo, anche se dobbiamo dire sempre in maniera fulminia, non hanno molto tempo per mettere a segno questi colpi, dunque è stato un colpo comunque fulminio, ma hanno cercato di ottenere qualche minuto in più, qualche secondo in più, mettendo questi trattori di traverso lungo la strada proprio per agire indisturbati. Questa è la fotonotizia sempre sul Corriere Adriatico. Poi c'è il San Bartolo, il San Bartolo che l'altra notte è andato a fuoco, si riparte, oggi è atteso anche il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Gianluca Galletti, che ha annunciato, che verrà a vedere di persona che cosa è successo lì lungo la falesia l'altra sera, era al telefono con il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Matteo Ricci ha esposto tutte quelle che sono le criticità, in particolare il grosso dissesto idrogeologico al quale poi si andrà incontro con la stagione invernale, con le piogge lì senza radici, senza vegetazione, il rischio che crolli e frani tutto quanto lungo la falesia, il rischio è altissimo e da una parte invece si parla della siccità, dell'SOS Siccità nelle Marche, ormai la regione è allo stremo. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, sono due le pagine dedicate al sacrificio di Bigio Ricci, si sacrifica per due ragazzi e il padre, 57enne, bagnino di salvamento a Torrette, e muore per trarre in salvo una famiglia di Milano. Nel mare Mosso ha portato a riva i fratelli e si è rituffato per andare a soccorrere l'adulto, ma il cuore non ha retto allo sforzo. Il 13enne e la sorella di 14 anni sono stati trasportati a Santa Croce, sono stati poi dimessi, mentre il genitore resta in osservazione. Soccorso dai colleghi del 118 per quasi un'ora in spiaggia, ha tentato inutilmente di rienimarlo. E si parla di malore da stress, un giovane animatore che ha assistito la scena poco dopo, ha accusato un malore, soccorso da una donna che gestisce un'edicola vicino al camping, il giovane forse per lo stress emotivo ha avuto un mancamento e si è ripreso soltanto dopo qualche minuto. Eccolo qua, Pierluigi Ricci, conosciuto da tutti come Bigio, è stato un eroe, ma non doveva morire così. È l'amarezza del presidente dell'associazione Mare Dentro che gestisce questi bagnini di salvamento. Per i pochi fondi e le imprudenze dei bagnanti ogni giorno rischiamo, ogni giorno rischiamo. E qui io punterei più che altro il dito sulle imprudenze dei bagnanti. Si tende a chiudere sempre un occhio, anzi forse due occhi. Quando c'è la bandiera rossa non si può fare il bagno, però come fai a dire a dei turisti che pagano, che vengono qui in vacanza, che hanno le ore contate, che hanno i giorni contati, a dire no tu non entri in acqua. E' così, purtroppo è così e questa è la dura realtà. Poi ci si scontra e ci si sbatte la faccia quando si perde una vita, come è successo ieri. Tra l'altro, ve lo abbiamo raccontato nel telegiornale ieri sera, questo fatto è successo intorno alle 11, ma già nel pomeriggio di nuovo tutti mobilitati per soccorrere altre persone che nello stesso punto, sempre a Torrette di Fano, erano in grossa difficoltà. E indovinate per cosa? Per il mare mosso. Lo stesso mare, nello stesso tratto. E lo riporta anche qua, nel Corriere Adriatico, questa mattina di Spalla, una giornata nera, altri otto soccorsi nello stesso tratto di mare, all'opera della Guardia Costiera con gli operatori in balneari. Ma sì, qui in evidenza chiaramente c'è un tratto della vita di questo uomo, conosciutissimo, dicevo, nella città di Fano, tante ripartenze per lui, sempre giovane, bigio amante del mare e altruista, sgomento e cordoglio per la morte di Ricci, conosciuto come esercente e anche come ristoratore, perché era ex titolare dell'omonimo enoteca, l'enoteca Ricci, che è di Fano la conosce benissimo, in via Cavour, ma aveva gestito anche il Caico, e aveva gestito anche un altro ristorante al Lido di Fano, il Mocambo. E c'è qui riportato anche il pensiero di suo figlio, che potete leggere Giovanni, che viva all'estero, e qui potete leggere quello che Giovanni aveva detto qualche tempo fa in un sito internet, in un'intervista pubblicato sul sito web delle belle storie dedicato ai fanesi all'estero. Qui c'è scritto il suo pensiero, che è un bellissimo pensiero. E poi, nell'altra pagina di Fano del Corriere Adriatico, nel paese dei Balocchi, tra sogno e desiderio, ho presentato questo evento che si tiene a Fano dal 17 al 20, lo diciamo adesso che siamo visibili in tutte le marche, se non lo conoscete già, venite a Fano dal 17 al 20, perché c'è questa bella iniziativa che riguarda tanti, tantissimi bambini ed è rivolto soprattutto a loro. Un'iniziativa che ogni anno cresce sempre di più. Ospiti quest'anno il giornalista d'inchiesta Montanaro e il capo della protezione civile Curcio. E poi la notte delle candele, che arriva anche a Fano, con Fiammella in centro storico il 10 di agosto, per accompagnare lo shopping e i giochi educativi dei bambini. La siccità, dicevamo, il problema che non piove. La terra ha bisogno di acqua, ma non solo, anche i fiumi. Tutti quanti abbiamo bisogno di acqua per le cose di tutti i giorni. Ebbene, le marche ormai sono allo stremo. L'agricoltura, il Ministro Martina, rimanda da giorni, la firma per la concessione dello stato di calamità. È stato un luglio infernale, con 3 gradi in più rispetto alla media. E pensate, il 73% invece di pioggia in meno. E il conto ha superato i 50 milioni di euro. E qui c'è il riepilogo, il grafico, che pubblica il Corriere Adriatico questa mattina, con quello che è successo, così com'è successo, cos'è stato il mese di luglio. Tra oggi e domani le temperature registreranno un nuovo aumento, come abbiamo visto poco fa nell'angolo dedicato alle previsioni. Poi, l'altra notizia sulla cronaca marchigiale del Corriere Adriatico, scatta l'operazione zero cartelle, tregua dell'Agenzia delle Entrate. Fino al 20 di agosto verrà sospeso l'invio degli atti destinati a migliaia di contribuenti marchigiali. E dunque, per almeno 20 giorni, per almeno una decina di giorni, perlomeno non si avrà nella cassetta delle lettere l'incubo di trovarsi una di quelle letterine tanto carine dell'Agenzia delle Entrate. Il Presidente Ruffini dice, così proviamo a rendere più leggero il sistema fiscale. Ok, e questa è la pagina delle Marche. Andiamo di nuovo sulle pagine locali. Urbino, l'apertura della pagina di Urbino è per la voglia pazza di ferrovia. Fano-Urbino, il PD applaude, i 5 Stelle avvertono, i Democratici merito del partito locale, i Grillini invece, la pista ciclabile, dicono, va cancellata. Insomma, ancora si cerca, in qualche modo, di riportare questa vecchia ferrovia, che ormai è dismesse da tantissimi anni, lo dico per qualche turista che magari ci segue e non sa di cosa stiamo parlando. Un tempo c'era la Fano-Urbino, questa ferrovia che collegava la costa all'entroterra. Adesso sono anni e anni, più di vent'anni, forse di più, che non è in funzione, però si cerca di riattivarla. E dunque c'è questa voglia, volontà, anche politica, almeno così sembra, di riportarla in vita. Poi, il Burano, il Burano che è in secca, corsa per salvare i pesci, scatta l'allarme, diversi tratti del fiume si stanno asciugando a monte del Pozzo del Burano, dopo la sua apertura, Cannisti dice, entra in azione, scusate, la SD Cannisti entra in azione, spostate le trote, chavedani e barbi, ma per alcuni, purtroppo, dicono, siamo arrivati tardi e quindi erano già tutti quanti morti. Per portare la fauna ittica in acque più profonde è stato usato un elettro storditore, per farli andare in acque più profonde. Da Falconara, invece, i ladri si spacciano per amici dei figli, svaliggiata la casa degli anziani coniugi, altro furto in un'abitazione, i banditi sono fuggiti con monili d'oro e un anello di brillante. Mentre da Senigallia, il viaggio in Siria, poi l'ultimo volo, il saluto alla pediatra, Paolo, ciao Paolo, avevi un cuore grande, il ricordo di quest'uomo che è morto schiantandosi con il suo deltaplano, insomma, lui era amante di questo sport, era sul Monte Cucco, con il suo parapendio, è morto l'altro giorno, aveva 54 anni. La pagina di Osimo, invece, eccola qui, scoppia l'emergenza all'ospedale, accessi boom, ambulanza in coda, pronto soccorso assediato, la croce bianca di Numana lancia l'allarme con una foto su Facebook. L'ultima pagina, invece, è quella di Iese, assalto in casa con pistole e bastoni, mi hanno riempito di calci e pugni, sciocca San Paolo, il 54enne pestato e chiuso in bagno, convivente e mobilizzata, tre persone in fuga con soldi e gioielli. La rassegna stampa finisce qui, Occhio ai giornali torna domani mattina, stasera avremo, come sempre, alle 20.30 del telegiornale, e questo è il numero di telefono per le vostre segnalazioni, anche e soprattutto con WhatsApp. Foto, video e semplici messaggi di testo, potete inviarli gratuitamente, utilizzando l'applicazione. Ma vi ricordo che abbiamo anche l'applicazione sugli store Google Play e Apple Store, l'applicazione basta scrivere Occhio alla notizia, è gratis, la potete scaricare, e lì potete vedere tutte le nostre notizie aggiornate in tempo reale. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.